Escono gli ultimi let's, ci siamo, partiti cavalli della quarta del poveriggio Più letto a partire è Popsi che lascia lì una cosa come 5 lunghezze Parte bene Deep Gold con la giuba blu e la fascia bianca Seconda posizione per Love The One, la terza per l'importata Bell Storm Che precede in quarta posizione Lilibet Poi andiamo a cercare la favorita che in questo momento è in pancia al gruppo Con la giuba blu e il cap giallo preceduta da Esa Weera E ingabbiata all'interno di Apollo Theater A completare il quadro troviamo King of Night Si procede in questo ordine senza esagerazione il ritmo imbastito in avanti da Deep Gold Che ha ai suoi fianchi Bell Storm Poi American Fighter Esa Weera che non perde mai di vista proprio la favorita Ancora Apollo Theater in quinta posizione all'interno E poi Love The One con King of Night, Lilibet e in fondo al gruppo Popsi Così si arriva all'imbocco della dirittura d'arrivo Non ci sono state variazioni sul tema Adesso si comincerà ad accelerare inevitabilmente con Deep Gold E soprattutto American Fighter che dalla prima scossa alla corsa Accompagnata nel suo incedere da Esa Weera Che dall'esterno mette sempre la solita costante pressione Apollo Theater di dentro che deve trovare la sua forma Al paletto dei 400 American Fighter ha risposto presente al primo attacco di Esa Weera La quale tuttavia ci riprova al paletto dei 200 Esa Weera Si sta conservando qualcosina Non è stata ancora richiamata dalla frusta Lo fa adesso il suo interprete È un duello a fruste alzate tra Dario Vargio e Dario Di Tocco Di dentro American Fighter riprende la testa All'esterno ci riprova Esa Weera Esa Weera che con l'ultimo affondo su American Fighter Si riprende la testa E vince Battendo Dario Di Tocco ed American Fighter C'è stato anche un bel gesto subito dopo il palo Tra i due top jockey che si sono stretti la mano Sicuramente un fatto da annotare Esa Weera e Dario Vargio che vincono La figlia di Belardo ottiene così la seconda affermazione in carriera Doppio in giornata anche per Dario Vargio Doppio in giornata anche per Sebastiano Guerrieri I colori sono di Antonella Ronchetti Bel duello a fruste alzate Qui era davanti American Fighter Però nell'ultimo tratto Esa Weera a 6 contro 1 Riesce a mettere almeno un'incollatura abbondante Che poi diventa Una testa diventa che poi un'incollatura Andiamo un po' Sì abbondante direi E qui di 5 al primo posto 1 American Fighter al secondo Per il terzo dovrebbe essere numero 2 Apollo Theater Ma lasciamo scorrere le immagini per capire Per avere piena contezza del nostro impressione Eccola qua Sì è così 2 al terzo Da Capanelle Per la quarta è tutto 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 Per la quarta è tutto